Bene, un saluto a tutti i lettori di IAC di Blog. Eccoci, abbiamo il nostro sketch Killi e Ghegga che si esibiranno per voi in una prova a Just Dance 2014. Siamo in attesa di scoprire che cosa i due organizzatori riserveranno per i nostri poveri tre redattori di games. Vedremo fra pochissimo l'esibizione. La musica è già dentro. La musica è in attesa. La musica è in attesa. Il prossimo è lui? No! Eh, ci provano tutti e due, ma qui mi sa che... No, no. Mi sa che con qualcuna pitch... No, dai, no. Vai, John, che ce la fai? Yeah! Però a pitch è qualcuno in vantaggio, eh? No, ma è tutto. No, ma è tutto.